Gli errori degli altri sono i tuoi. Cerchio medianico K attraverso Marco, la via mistica, a cura di VB, ignoto. Voi avete udito che vi fu detto, conosci te stesso. Voi avete udito che vi fu detto, non invocate la giustizia e occupatevi d'essere giusti. Per giustificare tutto questo ti crei l'ignoranza chiudendoti alla realtà e nascondi così a te stesso che il superamento delle tue limitazioni può nascere soltanto dal sentire gli errori degli altri come tuoi. Ipocrita è colui che in ciò si sente diviso dagli altri e crede che i loro errori siano a lui estranei perché quanto maggiore è l'evoluzione, tanto maggiore sarà la responsabilità che gli ha degli errori degli altri. E quanto maggiore sarà la sua evoluzione, tanto maggiore sarà la possibilità che il suo pensiero ha di influire sulla coscienza collettiva e quindi di fare tutto il possibile perché i suoi simili non errino. Perciò il tuo errore è errore dei tuoi fratelli, ma l'errore dei tuoi fratelli è tuo errore. Perciò ti fu detto, perdona settanta volte sette. Se, come dimostri, credi solo in te stesso e nel tuo io, almeno così ti sarai giustificato e sarai coerente con te stesso. La libertà nasce dove un'ampia coscienza e l'ampia coscienza nasce anche dal sentire la sofferenza dei propri fratelli come propria. Quando sentirai nell'errore di un tuo fratello il tuo errore, quando sentirai nella violenza che subisce un tuo fratello una violenza a te data, però non ti risentirai di questo, ma l'accetterai di buon grado ed abbraccerai quel fratello che ti ha violentato e farai in modo che il fratello che ha subito per te e con te quella violenza faccia altrettanto, rendendo cosciente lui e te stesso che solo così poteva essere. Quando farai in modo che il tuo pensiero, indipendentemente dalle parole e dalle azioni, possa influire come ente a sé stante sugli uomini. Continua.